e allora siamo qui con Alessandro Boninelli partita col bra terminata da pochi minuti e ancora una vittoria per questa Lazio 4 a 2 in casa e in casa la Lazio sta diventando veramente molto temibile come hai visto questa partita Alessandro? L'ho vista un po' sofferente innanzitutto e comunque alla fine grazie al gioco di Luca e grazie comunque alle scelte che abbiamo fatto noi in campo siamo riusciti a portarci a casa questa vittoria comunque sofferta anche se il risultato non sembra così tanto sofferto infatti la Lazio devo dire che soprattutto nel secondo tempo ha giocato un grande hockey un po' di difficoltà nel primo tempo secondo te per quale motivo? non ti saprei di troppo bene anche perché non entriamo mai comunque col 100% subito nei primi tempi ma ci cominciamo a sbloccare comunque dal secondo al terzo quarto e per poi comunque dare tutto anche nell'ultimo quarto allora Alessandro giudica un po' la tua prestazione perché devo dire che tu sei una delle sorprese migliori di questa stagione perché veramente è una grande tecnica il centrocampo entri spesso con la palla difendi ritorni fa un po' tutto il tutto campista e che ne pensi di te? io sono abbastanza fiero della mia prestazione comunque cerco da dare sempre sempre il massimo e quello che conta è la cattiveria agonistica che uno ci mette tu sei il numero uno allora ringraziamo Alessandro ringraziamo tutti e arrivederci alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti